Una funzione molto interessante del forum del mio Content Management System è il fatto che il mio Content Management System è in grado di riconoscere automaticamente quali sono gli argomenti correlati. Se un qualsiasi utente apre un determinato argomento del topic, in automatico sotto il suo topic vengono riportati anche i link a tutti gli argomenti correlati, ovvero se ci sono altri argomenti simili già aperti all'interno del forum. Questa è una funzione molto interessante, per chi volesse conoscere meglio il mio software per leggere il forum può continuare a seguire questi piccoli clip. Alla prossima! Alla prossima!